In arrivo a San Lazzaro un enorme centro cinofilo, aperto a nuovi eventi e più attività per i Quattro Zampe, è la proposta dell'Associazione La Lupa, l'unica accettata dal Comune, per l'area pubblica tra Via Codaniello e la Ferrovia. Nelle scorse settimane, infatti, l'amministrazione aveva indetto un bando per affidare il terreno di 12.000 metri quadrati, in concessione gratuita per 20 anni, con il vincolo di favorirne la riqualificazione, il presidio e la sicurezza. Palazzo Mercanti ha ricevuto una sola manifestazione di interesse, quella dell'Associazione La Lupa. Appena il Comune formalizzerà l'affidamento, commenta il referente Gabriele Morni, allestiremo la nostra nuova sede in Via Codaniello, traslocando dall'attuale area di Via 24 Maggio. L'Associazione punta infatti a realizzare un centro cinofilo grande quasi il doppio rispetto a quello di oggi, recintando il terreno e ospitando tutte le esercitazioni per cani. Buona parte dell'attività riguarda anche la preparazione per il soccorso nell'ambito della protezione civile, che l'attuale sede di Via 24 Maggio non permette in maniera completa.